bello a tutti ragazzi siamo partiti di merda bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono alex 10 tv e oggi siamo su una novità allora questa è l'app della serie a team come ben saprete per chi non lo sa domani alle ore 19 cioè le 7 di sera usciranno le 38 giornate della serie a team usciranno le saranno dette praticamente le nuove le giornate del nuovo del nuovo anno dei nuovi anni del torneo comunque siamo su serie a team praticamente ci sono notizie ecco ragazzi piazza la juve cala la juve cala il poker ufficiale 23 milioni alla dynamo incredibile ragazzi napoli c'è l'accordo c'è l'accordo si apre il fronte con il lion con il lion ecco cairo si scatta sul mercato la regi o regi ora il regista o tre opzioni e vabbè e guarda ragazzi da venerdì per programmare il tuo futuro in diretta la presentazione del calento la presentazione del calento vediamo un po la notizia ecco ragazzi vediamo un attimo questo video io ho un tour al lavoro in palestra vediamo se riusciamo a fare a vedere il video guarda mi si sta rigirando il telefono con calma è molto lento guarda mi si sta rigirando il telefono con calma è molto bene guardaì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutorial per questa applicazione e vi spiegherò come funziona. Ma comunque ragazzi, io direi che per questo video lo posso chiudere qui. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bene ragazzi!